Padova Fiere rilancia per la quindicesima edizione di Tecno Food, l'evento professionale di riferimento per bar, ristoranti e alberghi che accoglie visitatori da tutta Italia e dall'estero. La manifestazione è cresciuta nel tempo, nel 2014 ha raggiunto 600 espositori e 24.000 visitatori. Sì, Salone Biennale, quindicesima edizione da domenica 20 a mercoledì 23 novembre 2016, torniamo dopo due anni, torniamo ricchi di contenuti, di novità, di competizioni, di laboratori del gusto, con tre o quattro tendenze internazionali di rilievo che ci stanno già portando ad oggi l'attenzione da parte di Baiera Esteri e delegazioni soprattutto dall'Europa e dal Sud America. Tra le iniziative organizzate durante Tecno Food, il campionato nazionale di Finger Food, una rassegna dedicata ai camerieri di sala, una kermesse sui nuovi caffè internazionali.